Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di SteamWorld 2 Bene, andiamo pure avanti, vediamo un po' cosa fare Allora, questa caverna qua, volevo farle in realtà Per vedere un po' i segreti, perché sono interessanti E adesso ci guardo, facciamo così, dai, proviamo a farle Vediamo se esce fuori qualcosa, perché se mi ci fa un altro camufatto C'è un apposto, un camufatto, insomma E siamo qua, quindi la prima tomba, diciamo chiamiamola così Sì, poca miserica Ma che cazzo Dovrebbe essere di sotto Ok, scusate Intanto faccio esperienza che arriviamo a livello 16, che male non ci fa Non è che mi ha detto il dottore che non posso farlo Oh, ma questo è estruso, ecco qua Cade giù Ok, e la caverna è questa E vediamo come si chiama, cioè come si fa, come possiamo fare a farcela, insomma E vediamo un po', perché sono abbastanza convinto che sia nell'acqua Anche perché questa è tutta acqua, ha fatto lo sconfetto dell'acqua calda E quindi vorrei vedere un po' se le pareti sono accessibili in qualche modo Qua mi sembra di no Qua mi sembra di no E qua mi sembra di no Ci do un'occhiata veloce, eh Insomma Magari c'è qualcosa Qua, magari No, non c'è un cazzo E insomma sì C'è qualcosa Allora forse si va dopo Fatemi vedere Di qua non c'è niente Fatemi vedere di là Oh, ma cazzo Ma c'era No, ci sono già andato qui, dai Non ha senso se no Adesso io non mi ricordo neanche dove sono stato e dove no Però mi sembra che qui ci sia stato Sì, 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 sì Ci sono stato Ok, andiamo avanti C'è indietro? C'è nel senso Eh, c'è ma sì Ma che cazzo Ok Diamo un altro po' giù Eh, vabbè Insomma Non si può fare un cazzo qui Ecco qua Poi vediamo se c'è qualcos'altro Non mi sembra di vedere niente Quasi quasi mi guardo una guida Ah, c'è qualcosa qui Ah, ma per me questo si doveva andare avanto Eh sì, eh Tanto se no dove cazzo andavo La facciamo così Guardo una guida Se no vedete sto qui delle ore Perché non riesco a trovare un cazzo E ci vediamo fra poco Allora Vediamo un pochino Adesso ci arrivo Andiamo avanti Perché secondo me Se la guida non l'ho trovata Però Sono sicuro che la trovo Sarà così difficile trovarlo Eh, può darsi di sì invece Allora, adesso proviamo Opla Stiamo attenti Guarda che si muoia Dopo sono cazzi Io sto guardando Non mi sembra di trovare niente Andiamo avanti Ok Adesso guardiamo bene Se c'è qualcosa Sarà qui Dai Io guardo ai lati Eh Se c'è qualcosa Qua Che Ah, adesso abbiamo l'abilità Oh Ecco Ci mancava l'abilità Adesso è tutto chiaro Che poi l'abilità Si perde quei granaggi Neanche dire che la prendi Comprandola Adesso mi piaci Mi piaci tanto Allora devo andare semplicemente giù Ahia Eh, ho fatto la cacata Spero che fosse quello Perché se no mi tocca rifare Io sono andato tranquillo Adesso Non mi sembra di vedere niente E siamo a postolo Ok Sto guardando Perché non mi sembra di vedere nulla Quindi io penso e credo Di avercela fatta Speriamo Perché se no mi tocca di parte E non mi sembra il caso Vediamo un po' Vai Fatta Ah Sono contento Va Adesso andiamo un attimo A bagnarci il becco Ah no Siamo a posto E scendiamo la prossima Che mi sembra giusto Ok Qui siamo già Allora Prima di tutto salviamo Così almeno Ci salva Eh Quanto abbiamo Abbiamo un cato Quindi scendiamo Questa caverna L'abbiamo fatta Andiamo a fare quest'altra Così siamo a posto Che Penso che sia una o l'altra Ma siamo uguali insomma E proviamo a vedere Se c'è qualcosa Adesso Più Ma siamo questo Che C'era una piccola Scusi Sa E già Lo tupe marroni Adesso io la matterei Ok Siamo a posto Allora fate vedere Se c'è qualcosa Se no Andiamo pure giù Olè Vai E cosa c'era Un cazzo Che cazzo ho trovato Ah ho trovato Ah non me ne ero Troppo accorto E sono contento Beh questa è una cosa Fatta no È già qualcosa E proseguiamo Un pochino Per vedere come andare Come fare Allora Adesso ho trovato Una guida Finalmente La seguo Questo come si fa Oh scusate Accidenti Anche qua Vai Qui almeno Siamo a posto Ok A posto Vai Così grande Allora devo andare giù Non mi ricordo più Mi sembra Adesso mi ricordo Da qui dove devo andare Di qualche Siamo a posto Dobbiamo andare di là Sto guardando Perché qui c'era Effettivamente qualcosa Da prendere Non mi ricordo bene Dove sia Ok andiamo giù qua Aspettare Non è di qua Andiamo di qua Adesso lo faccio tutto Là che lo trovo eh Andiamo di qua Neanche di qua Ho sbagliato io Ok devo andare su In realtà Allora devo andare Oh scusate Di qua Devo ritornare giù Ok E adesso devo andare su Quindi devo rifare Tutto il discorso Qua Andar su Appena posso Oh cavolo Ok di qua esatto Andiamo su E c'è un trucchetto Un segreto Così lo prendiamo Perfetto Andiamo Adesso io volevo Prendere C'è boi è stato bravo eh Eh che cazzo È una bella maletta Sti cosi Però mi servono Che mi danno Soldini E mi servono I soldini Andando via Sarangia Fatti i suoi Ok saliamo Acqua Questi li avevamo Rotti tutti Me lo ricordo bene Allora Era così Aia Era così Poi andavamo così Andavamo così Adesso arrivo eh Faccio tutto Facevamo così Andavamo a posto Poi Dobbiamo andare qua Adesso questo lo mettiamo Così non ci sono più Pimeroni Questo lo facciamo scadere Così io cerco i pimeroni E mi ha fatto tutto Oh Ho aumentato il livello 75 Buono Poi Qui c'era qualcosa Che adesso non ricordo Dove dove C'era qualcosa di buono Allora Doveva essere Da queste parti Se non ricordo bene Mi sembra Opla Sto pensando Aia Scusate Sto pensionando Da che parte Era che non lo ricordo più La chiaia brutta Aspettate Ah cavolo Allora Ok Accidenti Dovevo aspettare Però da di là Ok Andiamo Era di Più o meno Di qua Qua No Qua neanche Andiamo Un po' Adesso Mi ricordo Proprio Esattamente Dove fosse Però Era da queste parti Allora Ci ho guardato Ed è Esattamente Qua Adesso Faccio vedere Adesso Appena riesco A arrivarci È divertente Allora Perfetto Vai Vai Ok Esattamente Da questa Parte Qui Dovrebbe essere Più in là No Più in qua Adesso Adesso Faccio Ricordarmi Perché Hai E Dovrebbe essere Da queste parti Qui Forse mi sbaglio Però è abbastanza sicuro Adesso Questo Ci deve Mosse Ricomparire Quindi Aspettiamo Sono Abbastanza sicuro Forse qua Scusate Forse Eccolo qua Qui Ecco Scusate Adesso Proprio Non lo trovavo Vai Presa E anche L'altro Ingrange È fatto Quindi Dovremmo Essere A poco A cap Nel senso Che Dovremmo Avere finito I palpaccate Io non finirò Mai Di fare Però Più o meno Dai su Difatti Siamo a posto Adesso andiamo via Perché dovrebbe essere A posto Dobbiamo aver fatto tutto Possiamo andare via Tranquillamente L'entriamo Con il tanto E adesso Dovemmo fare Dovemmo uscire Tranquillamente Fuori Insomma Sì Vediamo se c'è la data C'è la data Benissimo Adesso andiamo tranquillamente giù Tanto questo Dobbiamo fare qua Prendiamo quello Che dovevamo prendere E siamo a posto Oh C'è boia Sede Eccoci qua Vole da Peppa Voi volete Far qualcosa Bravi Io prendo punti Voi vi ammassate E io sono contentissimo Ho preso più la faccia Ah non siete morti Adesso decido io però Ok Altra esperienza E abbiamo fatto tutto quanto E questa è andata Poi Vediamo di fare quello dopo Che questa è stata fatta Quindi non c'è più niente Ah niente Se non c'è più niente Sono Arci contento il cazzo Perché c'è un'altra La sopra Come fate a non vederla Allora Facciamo Prima qua Allora Vediamo un pochino Di salire Oh c'è ma il silenzio Va che è meglio Poi andiamo di qua Ah è bellissimo Che ci dura così tanto Ah mi sono fatto malo E quindi andiamo di qua E vai Opla 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 Ok Facciamo Così E così E poi Si arriverà Ah perché è questo Allora Facciamo così 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 E così Eccoci qua Così siamo a posto Siamo arrivati Adesso dovremmo essere due passi Ecco qua Siamo arrivati Un attimo solo Ok Così vediamo come fare questa E speriamo bene E niente Proviamo Guardate la guida La speriamo bene Adesso Questa qui L'avevamo già fatta Però Pensavo non avrebbe fatto tutto Perché effettivamente C'era il segreto qua Però A quanto pare no Quindi Vediamo un po' come fare Eccoci qua Ok Ok Ah non me l'ha data Ok A posto Ah ci detti Ci detti Caccia 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 Ok Piana Con calma Si fa tutto Ok Vediamo un po' Se gli faccio qualcosa Secondo me Questa l'avevamo già fatta Ok Adesso l'unica cosa E pensare Se c'è effettivamente Qualcosa Qua Esatto Qui qualcosa c'è Però non penso Sia questo Non credo Sia questo Oh cazzo La roba Calma Uff Vediamo un po' Se c'è qualcosa Che posso prendere Però mi sembra Proprio Che abbiamo preso tutto Ok Piano Giusto per vedere Se ci manca qualcosa Però secondo me No Ecco Come morire Per stupidi Ok Andata Porca vacca Che usiamo Che usiamo Appena ci arriviamo Ma qui c'era Qualcos'altro Che cosa gradita Però Ottimo E qui c'è ancora Qualcos'altro Perfettico No E poi andiamo avanti E poi andiamo avanti A sto punto Così possiamo fare diverso Andiamo giù Finalmente Dai Sono contento Che stiamo facendo tutto Al cento per cento E andiamo giù Ancora Tanto giù Caverna Qui l'abbiamo fatta Scorso episodio Abbiamo fatto un sacco Di cose belle Accidenti Qui è pieno di gente Cattiva 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 Che mi vuole uccidere Vai Li prendo Perché sono punti Vai Perfettico Tutti i punti esperienza Che ci servono Perché più li vogliamo Più Le risorse che prendiamo Ci frutteranno E la cosa Mi interessa Alquanto Ok Tu sei molto animale Lo sai Anche adesso Vedai come fai Ecco qua Così Sei a posto Accidenti Vai E altri punti esperienza 150 Non sono da sotto Da sottovalutare Questa l'abbiamo fatta 100% E adesso Ci rimane Opla Ci rimane Perfetto Quella sotto Che non abbiamo Oh ma ce n'è un altro Di questi Cosi Che ovviamente Le facciamo Soltanto facendo Questa caverna E E niente Prepariamoci Allora io qua Ho visto Che volendo Ci posso andare C'è anche l'acqua Adesso aspettate Ecco qua Mi farò un po' malo Però insomma Eh Ho fatto Bello vero Si può già uscire Eh per carità Però Lo voglio fare bene Dai Non voglio E qui volendo La qua adesso non ce l'ho Però Volendo Facciamo così Adesso Non ci faccio farci male Accidenti Vai Ah Maledetto Eh non posso fare altro Ce la posso fare Allora Bisogna Essere un po' più attenti Purtroppo Ho fatto la caccata Me la tengo Una tale che più Adesso ci avrebbe fatto comodo Accidenti Vedete questi potenziamenti Sono sempre Molto Ok Eh no Ma noi sei bello stronzo Eh Sei proprio bello stronzo Allora Un attimo solo Scusate corriere Allora Vediamo un po' Se riesco Stavolta Ok Adesso facciamo così Facciamo così Cerca di essere veloci Perché Allora Perfetto Pazienza Vai Ok Adesso Facciamo così Ce la facciamo Così vediamo cosa c'è qui sopra Perché Sono curioso Non ci sono mai stato E siamo a posto Vai Così siamo a posto Siamo a posto Così va qui qua Ah c'era qualcosa allora Eh la mia vista La mia vista Così mi ha preso qui quello Dai sono contento Eh perché adesso che abbiamo Quest'abilità Non è più nessuno eh Tac Olè Vediamo se ce l'ha segnato No c'è ancora qualcosa Interessante Allora Intanto scendiamo Intanto qui non dobbiamo fare più niente Eh spero Spero perché Scendiamo tutto il capo Non ho voglia Eh Ritorniamo di là Perché qui se non si esce E facciamo il giro lungo E vediamo se c'è qualcosa di interessante Qui ci rigeneriamo Ok Madonna quant'acqua abbiamo bevuto Ci siamo pronti Nelle spugne Siamo evitati Ok Adesso qui scendiamo Vediamo che non ci sia qualcosa Altro Da fare Sto guardando eh Allora aspettate Guardo una guida Per questo punto Non voglio fare tutto a capo E dopo Ok Allora Vediamo un pochino C'è Prima di tutto qua da prendere Devo capire come fare Poi Vediamo se non c'è niente da fare Devo capire come andarci Qua si va qua Qua si fa qua Ok Perfettico Guarda quello si rifà E quindi vediamo Cosa possiamo fare Intanto Allora Sto ancora pensando eh Sto ancora pensando Che se non fosse per questa abilità Dai col casso Che ce la faremo Ok Grande così E qui si può far così Va bene Vai Perfettico E quindi Siamo tornati indietro No Abbiamo fatto lo shot E questa è già una bella cosa Però Qui c'era qualcosa Che mi interessava A prendere Ok È grande così Poi Scendiamo giù Ritorniamo qua Perché io ho intenzione Di far tutto E andiamo avanti E a sto punto Scendiamo giù Non dovrebbe esserci finire Sto guardando eh Oh salve Oh interessante Questo non mi aspettavo Ci dai Hai ottenuto Stato Reattore Vigoroso Ehi Credo che quella macchina Abbia appena trasformato Il mio motore Aeronautico In un'arma Grandioso Andiamo a D'arrostire un po' Di queste Vegetazioni Mutata Allora Spero che funzioni Anche con il terreno Pare che siano Sepolti Quaggiù Cosa devo fare? Ah Oh Cosa veramente Interessante Questa sì che è una cosa Bella E gradita Perfetto Ottimo direi Questi però Non ne possiamo sfondare Il culo Peccato Allora dove cassa Non la devo andare Ah niente Posso andare tranquillamente Dove devo andare adesso Oh E possiamo uscire E non c'è la data Completata però Ah sì sì C'è la data Completata Perfetto Benissimo Adesso un contento Certo che potevo farlo Prima Oh cavoli Eccoci qua Andiamo di qua E siamo a postolo Grande Abbiamo fatto anche questa Dai Sono contento Eccoci qua Qui non c'è nient'altro Ok Facciamo così Eh vabbè Quello faremo No non voglio fare lo shortcut Dai Così siamo a posto E questa è andata Madonna quanta roba c'è Bene Adesso raggiungiamo il punto E poi ci salutiamo Così almeno siamo a postolo E siamo tutti felici Andiamo giù Perché questo mi sembra tanto una Una cosa Pensavo forse qualcosa Invece non era un cazzo Adesso però faremo così No Ho fatto la mia cacata Eh vabbè Ho fatto e basta Me la tengo Eppure sembrava tanto Andiamo Perché Scusate Che punto Ti voglio guardare Non c'è proprio un cazzo Vabbè Andiamo avanti Ah eccola di qua Che devo andare Che cazzo faccio Mi riuscio neanche io Andiamo di qua E abbiamo liberato Olè Adesso andiamo Fantastico Fantastico Perfetto Liberiamo il tutto Beh abbiamo chiuso L'episodio di bellezza Andiamo un po' Quanto varrà questo Però 93 E adesso siamo A più di 1100 Dovremmo poter Prendere qualcosa Ho 7 E ho quelli Mamma mia Quanta roba Sì Vabbè Deve facciamo il prossimo episodio Sennò come al solito Lo faccio troppo lungo Quindi ragazzi Come al solito Vi invito A lasciare un like Il commento Se mi piace Di farvi sapere Cosa pensate E poi al solito Sotto si va Ciao ciao